Avrei voluto anch'io frequentare un'università così. Sono state queste parole, vere e cariche di entusiasmo, di Roberto Cenci, docente di regia televisiva all'Università Yulm, a concludere la presentazione della laurea magistrale in televisione, cinema e new media. Sono stati i ragazzi, i veri protagonisti della giornata, gli studenti in corso, che con i loro lavori pieni di passione e creatività, hanno raccontato a tutti i presenti quanto questo corso di laurea sappia trasformare i sogni in realtà, offrendo concrete ed ottime opportunità di lavoro nel mondo dei media. Tanti sono i ragazzi che appena usciti da questo Ateneo lavorano nelle maggiori produzioni televisive e cinematografiche, vincono concorsi e importanti premi letterari. Lo scorso inverno a Solombarda ha indetto un concorso, Far Volare Milano, dove 14 studenti delle maggiori università milanesi dovevano realizzare degli spot aziendali. Io e Nicolò Piccion abbiamo partecipato in qualità di studenti Yulm. Siamo arrivati entrambi alla fase finale che si svolgerà a metà aprile e speriamo bene. Una fabbrica del sapere che può contare su professionisti di altissimo livello capaci di tracciare un ponte di collegamento tra il mondo accademico e il mondo del lavoro. I tre motivi per cui bisogna iscriversi a questo corso? Beh, insomma, ci si diverte, si lavora tanto e ci sono delle ottime prospettive occupazionali. Come diceva Confucio, fai un lavoro che ti piace e non lavorerai mai un solo giorno e tutta la vita.